Dal regista premio Oscar Mike Nichols la storia di un uomo che disse di sì al destino Io stravinco Ma non sebbe dire di no Una frittella di mele? Tesoro, ti prego, il popcorn Ha nient'altro Il governatore Jack Stanton mi ha seduta La cosa va gestita come si deve Ecco, hai detto John Travolta Governatore di che stato? Emma Thompson Secondo voi riuscirà a vincere? No I colori della vittoria Grazie a tutti